Il Pacific Trash Vortex, conosciuto anche come Grande Chiazza di Immondizia nel Pacifico, è un enorme accumulo di spazzature, in particolare plastica, che si trova nell'Oceano Pacifico. Una vera e propria isola di plastica che si è accumulata nell'oceano frutto dei rifiuti plastici di oltre 60 anni. Questo fenomeno è talmente grande da essere considerato uno stato grande due volte il Texas, contenente 1,8 trilioni di pezzi di detriti. Per anni si è pensato che non potessero esserci soluzioni a questo problema, perlomeno fino ad oggi. Ma ora questa immensa discarica ha le ore contate grazie ad un progetto dell'organizzazione no profit olandese Ocean Cleanup, che sta finalmente prendendo il largo per segnare un momento storico nella lotta all'inquinamento ambientale. Questa organizzazione ha ideato il primo sistema di pulizia guidato dagli oceani al mondo. Si tratta di una struttura tubolare lunga 600 metri a forma di U, costituita da una barriera galleggiante e una fascia di tessuto che trattiene i rifiuti alta 3 metri, posizionata al di sotto dei galleggianti. È stata progettata in modo da essere trasportata dal vento, dalle onde del mare, per tutto il suo tragitto autonomo, alla ricerca dei componenti inquinanti presenti nell'oceano. Questa struttura, muvendosi, spinge i rifiuti al centro della barriera galleggiante. L'obiettivo dichiarato di Ocean Cleanup è quello di ridurre drasticamente l'inquinamento marino causato dalla plastica nei prossimi anni. Il raggiungimento è legato all'aumento della flotta, dove è prevista un'espansione di circa 60 sistemi per dimezzare le dimensioni del garbage patch in circa 5 anni. Entro il 2040 l'obiettivo è quello di ridurre del 90% la plastica presente in tutti i nostri oceani. Insomma, una vera e propria svolta epocale nella lotta all'inquinamento marino.